Cari amici del web, sono Andrea Bruni, in questo momento mi trovo a Jakarta e questa che state vedendo è la stazione ferroviaria, una delle tante, sulla ferrovia sopraelevata. Adesso da qui non si evince che siamo su una sopraelevata, la città ha una bellissima rete ferroviaria che permette di muoversi velocemente a un costo praticamente irrisorio, parliamo di pochi centesimi di euro. Ecco ogni tanto c'è qualche annuncio, vi faccio un po' vedere. Questa è la città, ecco arrivo il treno e vi saluto che io devo saltare su questo treno qua, ciao a tutti!